E allora dedichiamo questo, siamo ancora qua. Se, e cap, isi pureio, vai! Non fateli prendere per il culo da quelli della televisione. Mi raccoglio un fracco di mare, sono assolutamente... ... Sì, 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 sì Sì, 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 sì Sì, 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 sì Sì, 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 sì Sì, 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 sì Sì, 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 sì Grazie a tutti i nostri spettatori 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 Grazie a tutti i nostri spettatori